L'Islam opprime le donne. No, al contrario. L'Islam ha elevato lo status delle donne 1400 anni fa, dando loro il diritto al divorzio, il diritto di avere l'indipendenza finanziaria e il sostegno e il diritto di essere identificate come donne dignitose. I Jab, quando nel resto del mondo, Europa compresa, le donne non avevano tali diritti. Le donne sono uguali agli uomini in tutti gli atti di pietà. Corano 33-32. L'Islam permette alle donne di mantenere il loro nome da nubile dopo il matrimonio, il loro denaro guadagnato e spenderlo come desiderano e chiede agli uomini di essere il loro protettore, poiché le donne, per strada, possono essere molestate. Il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, ha detto agli uomini musulmani il migliore tra voi è colui che è migliore per la sua famiglia. Non l'Islam, ma alcuni uomini musulmani opprimono le donne oggi. Questo è dovuto alle loro abitudini culturali o alla loro ignoranza sulla loro religione.